Io nel fine non l'ho visto, non so come verrà, quindi non so, secondo me mi sembra più un cine polpettone, ho detto prima un cine panettone, cioè un polpettone, tutto quello che avanza si fa il polpettone. Dipende come lo faranno, se lo avessero chiesto a me io non avrei saputo da che parte cominciare, anche perché the best of, sì, ma non è che uno può ridere per un'ora e mezza, è geneticamente impossibile. Poi se l'hanno fatto non avranno trovato un sistema.